che si parte nell'esibizione, i tre inchieri, così così, uno, due e tre, poi applausiamo noi il pubblico, grazie, grazie, grazie. Credo che sia apprezzato l'impegno, sono stati bravissimi, grazie a tutti voi, credo che adesso ormai siamo tutti, vi ringrazio di vero cuore di essere qua, per loro soprattutto per l'impegno, non avete idea, dietro a questo sketch, il lavoro dietro di tutti i giorni per vedere le parti, per vedere le parti, mi ringrazio tanto per essere qua e ringrazio voi, anzi no, proprio il Ginasone, sono loro, vi ringrazio di vero cuore, in questi dieci anni sono stati tutti, tutti importanti, quindi di vero cuore il Girasole vi dice grazie. Un attimo da parte mia, ringraziare tutto il mio team, tutti quanti, senza escludere nessuno, siete persone speciali, come diceva anche il sindaco prima, non è da questo lavoro, non è per tutti e questo lavoro non è da tutti, non perché il Girasole sia solo Antonella di Vicenza, ma dietro c'è una sensibilità umana verso delle persone che di base non ti appartengono, ma che li rispetti e gli devi voler bene come di un genitore, che questo lavoro si può fare solo se negli occhi di ognuno di loro si trova il proprio genitore, e per chi fortuna ha ad averli ancora, rispettateli e amateli. Buongiorno di loro, non c'è nulla che grazie. Quindi iniziamo, ad ognuno di loro ve le presento, tu sei Carlo, Patrizia, Viola, Tina, Fatima, Miriana, Anna, Patrizia, Letizia, Mariela, Rosa, Rosa, Antonella, Timba, Lina, Sabrina, e questo è il Girasole. Grazie, 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 grazie a tutti voi, adesso ci prendiamo giusto per i minuti, c'è una piccola cosa che ho fatto io per voi, il tempo che ci sistemiamo, se cortesemente vi volete sedere un secondo, che vi devo donare una cosa.